Sette mesi di apertura da aprile ad ottobre al bar Bandite, le slot e i superalcolici, la cucina solo su un food truck. Sono queste alcune delle prescrizioni contenute nel bando che mette a gara la gestione delle colonie padane. Il documento è stato pubblicato dal Comune e riguarda la concessione per dieci anni di tutta l'area verde recentemente riqualificata. Dallo spazio Ristoro al Piano Terra, al percorso Ventura, dal Minigolf ai Campi da Bocce, allo spazio e venti all'aperto ai locali di aggregazione al primo piano della storica struttura. I termini per presentare la propria offerta è il 13 agosto, quindi ancora pochi giorni per aggiudicarsi la gestione, il cui canone annuo è di 3.000 euro più IVA. Dall'apertura delle nuove colonie padane avvenuta a settembre dell'anno scorso, la prima manifestazione di interesse avevano partecipato tre soggetti, a prevalere la proposta del Consorzio Solco che gestisce il vicino campeggio.